E' un pari tutto sommato giusto quello maturato tra la team Altamura e Savoia nel 14esimo turno di Serie D al D'Angelo, ancora da oleare i meccanismi per i murgiani dopo l'arrivo del neotecnico Cozza che sceglie un 4-3-3 offensivo con un tridente affidato a Palazzo Guadalupe e Gagliardi supportati dalla Verve di Montemurro. Per la squadra di Squillante c'è invece l'esordio del classe 2001 Rondinella, vista anche le contemporanee assenze di Del Sorbo, Marino e Nives. La palla pesa parecchio in una sfida di mezza classifica che tuttavia ha uno sguardo ben chiaro verso i play-off ed è proprio il Savoia a gestire meglio la prima frazione di gioco, grazie anche alla Verve di Alvino in avvio di gara. Dal suo piede arriva il servizio per Costantino in velocità, il cui cross per la testa di Ortiz è perfetto anche se la sfera è di poco fuori. Al 22esimo è lo stesso Alvino a crossare per l'inzuccata di Rondinella, ma il Volzone para tutto. La reazione dell'Altamura sta tutta verso la fine di prima frazione di gioco nel tiro cross di Trinchera che Savini è costretto a bloccare a terra. Stesso copione tattico nella ripresa, anche se la team Altamura sembra più in palla partono meglio gli ospiti però che al 13esimo sfiorano il vantaggio dopo un batti e ribatti in aria con il tiro finale di Alvino salvato sulla linea di porta. La replica è però immediata dei padroni di casa, da sinistra con Palazzo, ma Poziello in scivolata allontana. E Guadalupi a provarci dalla distanza con sfera alta e dal 27esimo invece ci prova Montemurro che la spizza di testa su di un cross teso, ma la palla è a lato di poco. E' il miglior momento per l'Altamura e dalla mezz'ora un doppio intervento fondamentale di Savini che nella stessa azione neutralizza prima un tiro di Montemurro e poi la successiva ribattuta ravvicinata di Palazzo. L'intensità del match però si spegne e le due squadre si accontentano del punto. Un punto che significa porta inviolata per la team Altamura di Cozza e classifica che resta sostanzialmente invariata visti anche i tanti pareggi delle concorrenti nella zona medio-alta della graduatoria. Mercoledì derby di fascino per l'Altamura che affronterà il Vito Curlo il Fasano.